Stilata questa mattina nella Sala del Consiglio del Rettorato dell'Università degli Studi del Molise, un'importante convenzione che sancisce una stretta collaborazione tra le istituzioni che operano sul territorio. L'Unimo e il Comando regionale della Guardia di Finanza, infatti, hanno formalizzato l'Accordo Quadoro che assicurerà, oltre ad una reciproca e più ampia collaborazione, un'attività di gestione della sostenibilità ambientale del patrimonio edilizio di Emaniale in uso al corpo. L'Università mette a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche per le esigenze della Guardia di Finanza rispetto al patrimonio immobiliare che la Guardia di Finanza utilizza qui in Molise. È un'opportunità di collaborazione, è un impegno dei nostri colleghi docenti di ingegneria, esperti di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, ingegneria sismica, ma è anche un'occasione per i giovani ingegneri junior di poter collaborare sul campo per un'istituzione così importante come la Guardia di Finanza. Oltre ad un risparmio energetico che ridurrà i costi per i contribuenti, si punta alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi naturali, a cui il territorio regionale è particolarmente suscettibile. Abbiamo sicuramente e conseguiremo in forza di questi progetti di efficientamento energetico minori costi in termini di risorse per spese di energia elettrica, combustibile e quant'altro. Questo cosa determina? Determina minori costi di funzionamento dell'amministrazione, così come il Comando Generale ha auspicato nell'ambito di una serie di iniziative che hanno pubblicizzato importanti risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che in questa maniera consegue questo tipo di aiuto per il cittadino di risparmio ancora di costi di funzionamento per le pubbliche amministrazioni. Le strutture individuate in regione, da Vinafro a Campomarino passando per Campobasso, verranno radiografate da un team di esperti che appureranno in modo accurato il lavoro di manutenzione che dovrà essere apportato. Punto cardine della collaborazione scientifica, un comitato coordinato dal docente Giovanni Fabrocino che si occupa di sviluppare analisi di vulnerabilità sismica sul patrimonio e diversi studenti tirocinanti e laureati Unimoli in Ingegneria.